Un altro gioco, un altro regalo, che il progetto Altro Giro, promosso dalla Hollus Gulliver e il Comune, dona alla città di Pesaro. Due tavolini dove poter giocare a scacchi in compagnia, passando al tempo stesso una giornata immersa nella natura del parco Miralfiore. Un gioco che non esclude, ma include, sia nella forma che nella sostanza, perché per ogni tavolino sono state costruite tre panchine attorno, con uno spazio lasciato per disabili in carrozzina. Un'idea che si è potuta concretizzare grazie alla donazione di 5.000 euro di Altro Giro, che da anni porta avanti i principi del recupero e del riuso anche nei parchi giochi. Questa mattina inauguriamo l'ennesimo gioco, siamo a quasi 50.000 euro donati al Comune di Pesaro e per noi è una gioia. Le persone partecipano, ci portano tutte quelle cose che non usano, le ragazze del sistema non le puliscono, in primis donazioni alle famiglie bisognose e poi c'è la vendita di questi oggetti nelle nostre sedi. Quindi con il ricavato, questa mattina è l'ennesimo gioco, altri sono in programma, settimana prossima un'altra del libreria Trebbe Antico. Andiamo avanti, siamo contenti, è veramente una bellezza. Una collaborazione che è iniziata ormai quasi due anni fa, la Gulliver ci ha regalato circa 40.000 euro di giochi, siamo arrivati. L'ultimo proposto invece è arrivato da Lorenzo Lugli, che assieme agli amici degli scacchi ci ha proposto di fare qualcosa che potesse coinvolgere gli appassionati, i giocatori di scacchi che ci sono nella nostra città. Allora abbiamo iniziato a cercare a scartabellare, abbiamo trovato questi tavolini un po' particolari, bellini anche dal punto di vista estetico. Siamo riusciti a portare all'interno del Parco Miralfiore un'altra piccola attrazione. Ovviamente il nostro obiettivo è sempre quello di rendere il Parco Miralfiore sempre più bello, fruibile e attrattivo e un pezzo alla volta ci stiamo riuscendo dopo anni di oblio, negli ultimi mesi stiamo spingendo molto molto sul Parco Miralfiore. È un'iniziativa importante che vuole essere uno strumento aggiuntivo alla lotta contro le ludopatie e alla dipendenza da internet. Noi promuoviamo, e in questo ringrazio anche l'associazione sport direttantistico Scacchi di Peso, vogliamo proporre il gioco degli scacchi come che non è soltanto un gioco ma è una disciplina e uno sport e propone un'attività che è totalmente al di fuori da quello che è la fortuna e il gioco d'azzardo. A scacchi non si vince per fortuna, si vince per bravura e c'entra la logica, c'entra il calcolo, c'entra la previsione di quello che farà l'avversario. Insomma, un modo per sviluppare e per aumentare le capacità cognitive delle persone. A questa cosa seguiranno tante iniziative, siamo in accordo con l'associazione, con il circolo scacchistico di Pesaro, vogliamo fare dei tornei, vogliamo proporre delle sfide, vogliamo fare tante cose, quindi molto seguirà. La Onlus Gulliver, l'associazione di volontariato di Via Toscana arrivata a quasi dieci anni di età, continua nella sua missione per poter contribuire a un futuro migliore delle famiglie più bisognose. Abbiamo quasi 500 famiglie che superano il migliaio di persone, Pesaro e Comune Dimitrofi. La difficoltà è crescente, quindi noi tentiamo di dare una mano concreta alle persone. Il cittadino può donare il mobilio, vestiti, cibo, nelle nostre sedi di Via Toscana 111, Via Rossi 20 e Piazzare di 4. dove poi successivamente doneremo alle famiglie che hanno bisogno, oppure per chi vuole, acquistando il bene, contribuendo così al progetto del riuso e del riciclo.